Buongiorno a tutti, benvenuti virtualmente, purtroppo in questo caso. È un piacere ritrovarvi comunque almeno in video, vista le situazioni un po' particolari nelle quali ci troviamo. E parliamo oggi proprio di una soluzione che ci può aiutare in questa situazione. Se ne è parlato molto nei giorni scorsi di questa app che potremmo installare sui nostri telefonini per darci una mano contro il coronavirus. Quindi oggi vedremo come funziona, come funzionerà e che cosa farà per la nostra privacy e per la nostra salute. Una cosa importante che possiamo vedere subito è come si chiama. Abbiamo finalmente un nome, se ne è parlato a lungo, ma adesso abbiamo un nome definitivo. Si chiamerà Swiss PT, dove PT sta per un'espressione inglese che è proximity tracing, cioè il tracciamento di prossimità. Ed è una terminologia molto importante perché questa app non ci segue, non ci spia e non ci pedina. Non va a cercare dove siamo per poi sapere se siamo stati in un luogo potenzialmente di contagio. Semplicemente registra le persone che incontriamo, registra i contatti con le persone. Ma lo fa in maniera molto rispettosa della nostra sfera privata al tempo stesso dandoci sicurezza e garanzia di salute. L'icona che vedete alla vostra sinistra è quella dell'app che sarà disponibile prossimamente. Dove? Questa è la prima parte importante. L'app sarà scaricabile sia per gli iPhone, sia per i telefonini Android, nei rispettivi negozi online. Troverete molto presto sui giornali e in altri siti ufficiali un link speciale che vi permetterà di raggiungere direttamente l'app e poterla quindi scaricare in modo automatico e sicuro. Che cosa dovete fare voi? Quali sono i requisiti tecnici per chi vuole installare questa app? Sono molto semplici. Un qualsiasi iPhone va bene, un qualsiasi smartphone di tipo Android, per esempio come questo, un normale telefonino di quelli piatti senza tastiera, funziona. L'unica richiesta particolare di questa applicazione è l'accesso a una funzione che si chiama Bluetooth. Il Bluetooth, molti di voi lo conosceranno già, è un sistema che permette di collegare via radio, quindi senza fili, degli accessori al vostro telefonino. Per esempio le cuffiette, quelle senza filo che vedete non sono finte, sono delle cuffie vere, ma hanno una connessione via radio con il telefonino. Questa connessione si chiama appunto Bluetooth. Quando salite in auto e il vostro telefonino si abbina direttamente alla vostra automobile, quindi avete il viva voce in auto, quello avviene quasi sempre tramite appunto questa tecnologia che si chiama Bluetooth. A parte questi requisiti, tenete presente che non funzionerà su tutti gli altri telefonini, quindi per esempio i telefonini molto semplici, quelli con la tastiera, con lo schermo piccolo, i telefonini un po' vecchiotti, questo è un telefonino giallo banana con la sua tastiera scomparsa, non potranno usare questa applicazione. Quindi servirà o un iPhone o uno smartphone di una marca che usi il sistema Android. Quindi Sony, Huawei, Wiko, LG, Samsung, vanno tutti bene. Un altro aspetto importante di questa tecnologia, di questa app, è il fatto che è gratuita, volontaria e automatica. Gratuita significa che non paghiamo nulla per installarla sui nostri telefonini, non c'è nessun obbligo di installazione, quindi è su base esclusivamente volontaria e una volta che è installata è completamente automatica. Non c'è da fare nulla, non c'è da impostare niente, la si lascia in funzione in modo che possa proteggerci. Una parola di cautela però, perché purtroppo, come sempre in questi casi, si stanno svegliando i truffatori, gli imbroglioni, i ciarlatani, i criminali informatici. Per cui fate attenzione alle app finte. Ci sono in giro delle applicazioni, delle app da installare sui telefonini che dicono di fare protezione contro il coronavirus, ma non sono quelle ufficiali. Quella ufficiale non è ancora disponibile salvo a chi fa sperimentazione. Quindi per ora, se non vedete un annuncio ufficiale, non installate niente sul vostro telefonino che parli di protezione, salute, coronavirus e via dicendo. Non abbiamo ancora una data precisa in cui sarà disponibile questa applicazione. Doveva essere disponibile oggi, non lo è ancora. Non sarà disponibile al pubblico generico prima di giugno di quest'anno. Non per motivi tecnici, ma perché c'è un aspetto, c'è una base legale che deve essere definita a livello federale. e la prossima riunione per definire queste basi legali sarà appunto fra qualche tempo. Quindi tecnicamente siamo anche abbastanza pronti, però è giusto che ci sia tutta la serie di garanzie necessarie a livello legale. In attesa di all'annuncio definitivo, mi raccomando, ripeto e sottolineo perché vedo già tante persone che sono oggetto di attacchi informatici, ignorate qualunque messaggino, qualunque WhatsApp, qualunque avviso che non sia ufficiale. Se non è ufficiale va cestinato, anche se vi arriva da un amico, da una persona che conoscete, perché può essere stato tratto in inganno anche lui o anche lei. Quindi premesso questo, quindi sappiamo su quali telefonini potremmo installare questa app. Vediamo in sintesi come funziona questa applicazione. È un funzionamento estremamente semplice, cioè in realtà tutta la parte complicata è nascosta dietro le quinte, che è un sollievo per tutti noi, un po' meno per gli informatici, però è interessante sapere cosa dovremmo fare noi come cittadini generici per gestire questa situazione. Praticamente nulla. Funzionerà così. Innanzitutto, ribadiamo, questa applicazione non ci traccia, non ci segue, semplicemente registra gli incontri che facciamo. Per esempio, in questa immagine vedete una persona che ne incontra un'altra, intanto che sta portando a passeggio il cane. Entrambi hanno l'applicazione sul proprio telefonino e se le due applicazioni si parlano, salve, sono un telefonino, salve, anch'io sono un telefonino, parliamoci, queste applicazioni si parlano e si misurano a vicenda. Dicono, ma tu sei a meno di due mesi da me? Se siamo qui insieme, stiamo chiacchierando in totale da 15 minuti, anche se sono diluiti nell'arco della giornata, magari ci siamo visti 7 minuti stamattina, ci siamo visti altri 8 minuti più tardi, beh, allora a quel punto l'app si attiva e dice, a questo punto, con questi criteri, quindi 2 metri e 15 minuti di contatto, vicinanza a meno di 2 metri con la stessa persona, viene registrato quello che si chiama un evento di contatto. Cioè, a quel punto, teoricamente, se una delle persone fosse contagiosa, potrebbe avvenire una trasmissione del contagio e quindi l'app si prende nota con discrezione di questo contatto. La discrezione consiste nel fatto che non c'è registrata la posizione di dove ci siamo incontrati, non ci sono registrati i nomi delle persone coinvolte, né il mio, né quello dell'altra persona. Non è registrato neanche l'orario, ma soltanto il giorno. Quindi è un'attenzione molto elevata a rispettare la nostra sfera privata, la nostra privacy. Che cosa viene scambiato fra questi due telefonini? Via radio, usando il sistema Bluetooth che descrivevo prima, i due telefonini, le app sui due telefonini, si scambiano un codice, un numero identificativo. In realtà è un po' più complesso di questo esempio che sto facendo comparire adesso. Ciascuno genera un codice temporaneo che cambia ogni 15 minuti e lo manda all'altro. In questo modo ogni telefonino ha memoria del fatto che c'è stato questo incontro. Ma è una memoria molto codificata, molto protetta. Non ci sono dati personali, ci sono soltanto questi codici. Gli ho visti chiamare, c'è un bel fumetto disponibile che spiega bene tutta questa complicazione informatica, li ho visti chiamare bla bla. Sono dei, immaginate dei biglietti da visita che noi ci scambiamo ogni volta che incontriamo qualcuno, ma su questi biglietti da visita non c'è il nostro nome, cognome, numero di telefono, indirizzo, ma semplicemente un numerino. Quel numerino se serve per sapere se siamo diventati contagiosi o se qualcuno che abbiamo incontrato è diventato contagioso, quel numero ci servirà da chiave per poter ricostruire tutti i contatti che abbiamo avuto con queste persone. Questa complicazione è necessaria per tutelare la nostra sfera personale, la nostra riservatezza. è un lavoro molto complesso che è stato fatto dai ricercatori dei principali, dei due Politecnici svizzeri, le PFL e le THZ, per dare il rispetto della nostra privacy, ma al tempo stesso darci protezione e sicurezza in campo sanitario e anche in campo di sicurezza informatica. Quindi, la nostra app, a differenza di tante app di altri paesi, non registra dove siamo, quindi non c'è GPS, non c'è geolocalizzazione, non registra chi abbiamo incontrato. Non solo, è comunque disattivabile tutte le volte che vogliamo. C'è un'opzione apposita nell'applicazione che ci permette di dire, guarda, in questo momento devo andare in un posto dove non posso, magari per motivi legali o per motivi professionali, essere registrato nei miei contatti. Io sono un giornalista, mi capita spesso di incontrare delle fonti confidenziali e quindi devo tutelare per legge quelle fonti confidenziali, non devo registrare il fatto che ci siamo incrociati. O posso pensare a un'associazione che protegge le donne maltrattate, quindi non deve far sapere, non deve esserci traccia del fatto che c'è stato un incontro con una persona che ha bisogno di questo tipo di assistenza. quindi è stata prevista la possibilità di disattivare l'applicazione tutte le volte che vogliamo. I dati, quei pochissimi dati che vengono conservati rimangono sui nostri telefonini, quindi io ho i miei, voi avete i vostri e sono comunque dati che non contengono informazioni personali, sono soltanto un lunghissimo elenco di numeri che il telefonino immagazzina. Tutti questi dati vengono comunque buttati via quando non servono più, cioè dopo tre settimane. Dopo tre settimane si presume secondo gli epidemiologi che le persone contattate non possano averci trasmesso il contagio e quindi i dati non servono più. Quindi sono state prese tantissime misure per garantirci la massima riservatezza possibile nei limiti della tecnologia. E questo è molto importante da chiarire perché nei giorni scorsi nelle settimane passate si è parlato molto e si parla ancora in realtà di contact tracing, cioè di tracciamento dei contatti. In realtà è un tracciamento soltanto della vicinanza di altre persone. E se volete fare un esempio, se vi serve un paragone forse più azzeccato rispetto a quello che abbiamo visto in giro con i localizzatori, se avete presente i dosimetri che si usano in ospedale, quelle targhette che i medici portano addosso per sapere se, soprattutto se sono radiologi, se sono stati esposti a una dose di radiazione eccessiva nell'arco della settimana. Quindi questi dosimetri rilevano semplicemente una quantità di esposizione. In questo caso, nel caso della app, viene rilevata una quantità di esposizione non a radiazioni, ma a persone potenzialmente contagiose. Quindi questa è la differenza fondamentale rispetto ai sistemi di molti altri paesi. Soltanto una registrazione di una esposizione complessiva. È un po' come quando andiamo a prendere il sole in spiaggia e abbiamo un cronometro o un dispositivo che ci dice quanti minuti siamo stati esposti al sole. Non è importanza se siamo stati esposti al sole, al bar o in spiaggia. L'importante è l'esposizione complessiva. Come funziona in sostanza questa app? La protezione della salute che è il suo scopo fondamentale lavora in questo modo. Questa che vedete è la schermata standard dell'applicazione e quella che vedrete normalmente sul vostro telefonino. Tutto va bene, avete un codice, un segnale, un colore azzurro che vi dice che è tutto regolare. C'è un'indicazione del fatto che il tracciamento è attivo, quindi quando incontrate qualcuno a meno di due metri e per 15 minuti viene registrato questo evento e non ci sono segnalazioni di problemi particolari. Quindi questa è la situazione normale nella quale ci troveremo tutti. Però che cosa succede quando ci capita uno dei nostri incontri, capita che uno dei nostri incontri sia stato con qualcuno che dopo l'incontro è stato diagnosticato come contagioso. Può succedere, il periodo di incubazione del coronavirus è piuttosto lungo, quindi può capitare che una persona sia in giro senza sapere di essere potenzialmente contagiosa. In questo caso l'app ci avviserà quando siamo entrati in contatto prolungato a meno di due metri con qualcuno che poi ha risultato contagioso. Ci avviserà in questo modo, vedete che la schermata è cambiata, c'è una piccola indicazione possibile contagio. A questo punto quindi l'app ci invita a contattare la infoline, quindi a telefonare al servizio apposito di gestione della pandemia per sentire quali sono le istruzioni da seguire e decidere che cosa fare. Di solito questo porterà a un consiglio medico di contattare un professionista della salute, quindi un medico che farà un test per sapere se siamo effettivamente stati contagiati. o meno. Quindi questo serve in sostanza per aiutarci a rilevare le possibilità di contagio. Come vedete in questa seconda schermata possono esserci ulteriori avvisi, quindi proprio come il dosimetro se ci sono diverse esposizioni a diverse persone che sono risultate poi contagiose questa esposizione accumulativa diventa poi una segnalazione che viene indicata sul telefonino. L'applicazione può essere impostata in modo che ci dia anche una notifica quindi ci suona un allarme ci fa un ronzio compare qualche cosa sul nostro schermo anche se non guardiamo l'app quindi ci avviserà se necessario. Tiene conto di tutto quello che è successo quindi degli incontri che ci sono stati nel corso delle ultime due settimane quindi ha una memoria di ferro da questo punto di vista è un po' come se noi andassimo in giro con un tacquino e disessimo sì oggi ho incontrato il macellaio oggi ho incontrato il fruttivendolo ho incontrato la signora che non vedo da una settimana si chiama così e prendessimo nota di tutto questo sarebbe complicatissimo è quello che si fa quando si deve ricostruire la catena di contagio bisogna ricostruire tutti gli incontri in questo caso l'applicazione quindi ci sarà molto preziosa tutte queste segnalazioni se ci arrivano sono rispettose dalla privacy anche della persona malata quindi non ci viene detto chi è la persona contagiosa non ci viene detto dove siamo stati esposti al contagio perché in realtà queste informazioni non sono importanti quello che è importante è la partecipazione se ci fosse come dire una indicazione la signora Bernasconi che sta in via Loco 17 a Pregassona è contagiosa probabilmente molta gente non se la sentirebbe di essere messa così all'agonia in questo modo creare disagi sarebbe controproducente per cui è stato deciso che non si viene informati di chi fra le nostre persone contattate ci può avere esposto al contagio la cosa importante infatti è interrompere questa catena dei contagi questo è l'obiettivo principale dell'applicazione tutto il resto viene secondariamente quindi questo è il caso dell'esposizione di nostra a qualcuno che è potenzialmente contagioso supponiamo il caso peggiore siamo stati esposti a un contagio siamo positivi siamo andati da un medico abbiamo fatto un test e ahimè abbiamo un contagio che dovremo imparare a gestire mentre il personale medico si occuperà di noi possiamo decidere volontariamente di allertare le autorità e tutte le persone che abbiamo incontrato in modo anonimo sembra apparentemente impossibile farlo ma la tecnologia ci consente di fare questa cosa quindi in un caso come questo andremo dal medico faremo un test risulteremo positivi in questo caso potremo immettere un codice che ci sarà ci verrà dato dall'incaricato del medico cantonale è un codice numerico che verrà immesso nell'app anche qui volontariamente e questo permetterà al sistema a tutti i telefonini di propagare questa informazione ripeto ancora una volta non verrà detto Paolo attivissimo è positivo al coronavirus devono saperlo tutti se l'avete incontrato state lì lontano non funziona così semplicemente tutte le persone che hanno avuto un contatto con per esempio me verranno allertate del fatto che qualcuno che hanno contattato è diventato contagioso e quindi devono prendere delle precauzioni ma non verranno dati i nomi delle persone in questione quindi tutto questo è pensato per dare la massima serenità a chi si trova in una situazione effettivamente difficile come quella di una condizione di contagio quindi l'incaricato del medico cantonale ci dà questo codice noi lo mettiamo nell'app il passo successivo è quello di isolarci anche qui è una scelta è un'operazione volontaria e poi attendiamo la fine del nostro periodo di contagiosità la nostra applicazione ci avviserà di questo passaggio del tempo ci dirà sei in questo momento positivo è inutile che ti tracciamo per ora quando sarà finito il tuo periodo di contagiosità riceverai un altro codice e tutto tornerà come prima sarai sbloccato quindi è stato pensato molto bene e questo è tutto quello che c'è da sapere in realtà che cosa succede normalmente che cosa succede se ho contattato una persona potenzialmente contagiosa che cosa succede se sono io la persona potenzialmente contagiosa come vedete l'interazione con l'app è veramente ridotta al minimo la installi e poi te ne dimentichi ci penserà lei se necessario a fare da custode da avvisare se necessario che è successo qualche cosa per la quale dobbiamo prendere dei provvedimenti quindi tutto orientato alla massima semplicità la complessità sta dietro le quinte vi faccio vedere giusto un assaggio del lavoro che gli informatici e gli epidemiologi stanno facendo dietro le quinte questi messaggini questi numeri che vengono scambiati in modo anonimo e riservato tra i telefonini passano se necessario se c'è una condizione di potenziale contagio da un computer un server tecnicamente ma chiamiamolo computer che è dell'amministrazione federale su questo computer i dati sono tenuti in forma riservata anonima i dati restano in Svizzera e non vengono mandati ad Apple a Google o a nessun altro ente neanche alle casse malati rimane tutto protetto anche perché non c'è niente da mandare in realtà ci sono soltanto questi numerini che non contengono informazioni personali quello che succede dopo è che i nostri telefonini interrogano in massa questo computer centrale per dire io ho incontrato un certo numero di persone e questi sono i loro numerini quei numerini sono stati elencati come contagiosi se si avvisami e io avviserò il mio proprietario il mio proprietario dell'app tutto qui in realtà tutto qui è un riassunto forse poco generoso del fatto del lavoro enorme che è stato fatto a livello informatico per garantire non solo la riservatezza ma anche la sicurezza di tutto questo sistema ma soprattutto si è lavorato tantissimo anche per tenere conto delle esigenze di chiarezza dato che l'obiettivo di tutta questa operazione è rendere tranquille le persone dare loro sicurezza e serenità per la salute ma anche dare loro sicurezza e serenità nell'uso di questa applicazione si è deciso che tutto quello che viene fatto con questa applicazione debba essere trasparente cioè tutto deve avvenire alla luce del sole e questo è anche qui un contrasto molto forte rispetto ad altri paesi cosa intendo per trasparenza per esempio l'applicazione quello che noi installiamo sul nostro telefonino è ispezionabile vale a dire che mentre normalmente noi compriamo un'app la installiamo sul telefonino e non possiamo sapere cosa c'è dentro qui è stato deciso di pubblicare tutto il contenuto è una tecnologia che si chiama open source se volete un esempio semplice immaginate di comprare una torta quando andate a comprare la torta la torta è sigillata e voi vorreste sapere cosa c'è dentro e il pasticcere vi dice no è segreto mangiala fidati ma io sono allergico che so al sesamo alle uova alla glassa no ti devi fidare non è quello che vogliamo noi vogliamo avere la trasparenza vogliamo sapere quali sono gli ingredienti della torta per la nostra sicurezza e anche per garantire che il pasticcere non stia affrodando e quindi si è deciso che l'applicazione sarà liberamente ispezionabile vuol dire che qualunque persona può prendere una copia della app darla a un informatico di fiducia e farla verificare che non ci siano trappole che non ci siano errori che non ci siano problemi che possono causare altre difficoltà non solo anche le applicazioni i programmi di gestione che stanno su quel computer centrale dell'amministrazione federale sono trasparenti e ispezionabili proprio per dare questa garanzia di tranquillità e sicurezza a tutta la cittadinanza il sistema si chiama protocollo cioè le regole con le quali vengono scambiati i dati già cifrati sono state le regole rispettano un protocollo particolare si chiama DP3T che è considerato a livello internazionale il più sicuro il più rispettoso della privacy degli utenti ed è importante sottolineare queste differenze perché molti altri paesi hanno scelto una strada completamente diversa la Corea del Sud per esempio non si limita semplicemente a tracciare chi abbiamo incontrato ma addirittura sorveglia le carte di credito mette insieme le informazioni delle telecamere di sorveglianza questo non è accettabile in un paese come la Svizzera l'India addirittura ha obbligato i suoi cittadini a installare l'app questo da noi non succede e non potrebbe succedere quindi l'obiettivo è quello di dare massima trasparenza a tutta l'operazione in modo da incoraggiare la partecipazione degli utenti perché questo è il nodo fondamentale progettare un'app è difficile ma è inutile se nessuno la installa l'obiettivo di questo progetto di installazione di diffusione dell'app è di raggiungere almeno il 60% della popolazione quindi almeno il 60% degli 8 milioni e mezzo di cittadini di svizzeri dovrebbe residenti di svizzera dovrebbe installare l'applicazione sarebbe tollerabile un 20-30% darebbe comunque qualche risultato interessante per gli scienziati però l'ideale sarebbe arrivare al 60% ed è per questo che si sta spingendo il più possibile affinché le persone si filino e decidono volontariamente di installarla va comunque chiarito che tutte queste tecnologie di tracciamento di prossimità le app e tutto quanto non sono dei sostituti sono dei complementi si aggiungono a tutte le misure sanitarie e standard quindi se qualcuno ha pensato beh ma adesso arriva l'applicazione quindi non mi servirà più la mascherina potremmo andare al ristorante liberi come prima no purtroppo questo non è ancora possibile è però un aiuto importante questa app per darci una possibilità in più è un'arma in più contro un virus molto impegnativo da gestire allo tempo stesso si tratta di una tecnologia assolutamente nuova e almeno con questi criteri inesplorata altri paesi in Estremo Oriente hanno già avuto delle epidemie e le hanno gestite attraverso delle applicazioni che però sono molto diverse dalla nostra sono molto più invadenti sono molto più ficcanaso non rispettano la sfera personale e non si sa bene fino a che punto siano realmente efficaci è un esperimento nel quale siamo insomma chiamati tutti a partecipare sperando che funzioni funzionare significa anche che deve essere garantita la sicurezza e deve essere garantita il fatto che non costi troppo il nostro portafogli dal punto di vista della sicurezza informatica possiamo stare abbastanza tranquilli l'attivazione continua del bluetooth di questa tecnologia per la comunicazione via radio potrebbe in teoria consentire a un malintenzionato di attaccare il nostro telefonino però è un rischio molto basso è un rischio che comunque corriamo già se abbiamo le cuffiette senza fili o abbiamo il vivovoce in automobile per quel che riguarda la sicurezza per la salute c'è chi magari si preoccupa beh ma questo flusso di onde radio può far male alla salute no non c'è nessun problema da questo punto di vista perché l'intensità del segnale è debolissima è quasi impercettibile per cui rispetto al segnale del telefonino è trascurabile al segnale della telefonata normale è assolutamente trascurabile per quel che riguarda eventuali costi mi è capitato una signora preoccupata ha detto ma io ho la tessera prepagata sul telefonino uso il telefonino solo raramente non è che adesso mi costa di più devo cambiare abbonamento no assolutamente la quantità di dati che viene trasmessa per aggiornare il proprio telefonino sapere se abbiamo incrociato qualcuno che potenzialmente è contagioso è molto molto piccola quindi non ha nessun peso significativo sulla bolletta telefonica soprattutto se avete un telefonino che almeno una volta al giorno si può collegare a un wifi di casa per esempio o sul posto di lavoro o in un posto pubblico non spenderete un centesimo in più tutto questo però non è perfetto la tecnologia è nuova e ha inevitabilmente dei limiti lo stiamo scoprendo ne parleremo in una prossima puntata di Patti Chiari forse già questo venerdì abbiamo fatto degli esperimenti come tanti altri ricercatori per vedere come funziona questa app in concreto sono esperimenti che anche l'esercito svizzero sta facendo con un gruppo di volontari per simulare le varie situazioni possibili i militari sono in isolamento quindi possono stare anche vicini fra loro e fare queste prove in tutta sicurezza però fino a che questa app non sarà in circolazione nel mondo esterno con tutte le sue stranezze e complicazioni non lo sapremo con precisione sappiamo già però che c'è un margine d'errore piuttosto alto cioè la misurazione della distanza qui due metri famosi non è molto precisa il telefonino non è fatto per fare da misuratore di distanze con i segnali radio e quindi ci saranno inevitabilmente delle imprecisioni c'è un altro limite che è di tipo fisico il segnale viaggia in modo diverso e non tiene conto del fatto della presenza o dell'assenza di eventuali barriere che bloccano i virus ma lasciano passare le onde radio quindi per esempio se io sono seduto in auto in fianco a me nell'auto accanto siamo fermi per esempio in colonna perché c'è un incidente stiamo uno in fianco all'altro per più di un quarto d'ora l'app registrerà un contatto ma in realtà siamo separati da due finestrini non cambia nulla andate a trovare una persona in un centro di una casa di riposo dove c'è la barriera di vetro per proteggere voi e loro ovviamente l'app registrerà che c'è stato un contatto prolungato perché siete stati a meno di due metri per più di 15 minuti ma in realtà non c'è stata interazione il virus non può passare attraverso il vetro un altro margine di errore è il fatto che l'app misura allo stesso modo un contatto fatto da due persone che si baciano e due persone che invece stanno a 50 cm e ciascuno parla con la propria mascherina magari dandosi le spalle quindi inevitabilmente ci sarà una generazione di falsi positivi e di falsi negativi non è quindi una soluzione non è un rimedio per tutti i mali stiamo sperimentando proprio per questo per capire quanto ci può dare una mano sicuramente per quanto siano imprecisi questi dati sarà molto preziosa per gli epidemiologi perché comunque permette di sapere quanti eventi di contagio quanti contatti e quanta attività c'è fra le persone rispettando sempre però la segretezza dell'identità di queste persone c'è anche un rischio piccolo ma significativo di abusi e sabotaggi nel mio lavoro è necessario pensare sempre ai cattivi i cattivi in effetti potrebbero fare delle cattiverie per esempio una persona che risulta positiva potrebbe prendere il proprio telefonino e piazzarlo vicino a una persona che gli sta antipatica e in questo modo la persona antipatica riceverà sulla proprio telefonino la notifica sei stato esposto al contagio quando in realtà non c'è stata nessuna esposizione immaginate per esempio questo è un caso che ho visto descrivere da alcuni ricercatori immaginate un famoso calciatore immaginate un gronaldo della situazione come lo chiamano loro un sabotatore magari uno che lavora per il mercato delle scommesse calcistiche prende il proprio telefonino che ha l'indicazione di positività lo piazza nello spogliatoio della squadra di Ronaldo a quel punto tutta la squadra portandosi i telefonini nello spogliatoio risulterà esposta apparentemente al contagio quindi sì in teoria questi sabotaggi potrebbero avvenire in realtà non sappiamo quanta gente sarà così malefica e malevola da fare cose di questo genere però dobbiamo sempre pensarci quindi sono già stati esplorati anche questi scenari per quel che riguarda invece non la sicurezza ma la privacy c'è comunque un rischio modesto marginale residuo perché ci sono delle situazioni nelle quali nonostante tutte le precauzioni tutte le misure tutte le anonimizzazioni che sono state fatte può capitare di sapere chi ci ha dato il contagio per esempio io faccio vita abbastanza tranquilla in questi giorni vedo pochissima gente se la app mi dovesse avvisare che il 5 maggio sono stato esposto a un contagio le persone che ho incontrato le posso contare sulle dita di una mano quindi faccio abbastanza in fretta a capire chi è la persona quindi l'anonimato non è del tutto garantito però sono situazioni abbastanza marginali quindi tutto quello che si poteva fare per darci garanzie è stato fatto e quindi cosa possiamo concludere di tutta questa tecnologia che ci viene proposta innanzitutto dobbiamo considerare un fatto fondamentale siamo in una situazione straordinaria la l'economia la salute l'intero ordinamento sociale sono stati improvvisamente ribaltati e quindi in casi come questi anche alcuni diritti fondamentali come la privacy possono subire delle come dire compressioni temporane ma devono essere temporane e devono essere il minimo indispensabile è per questo che l'app è stata concepita in modo da evitare o almeno ridurre al più piccolo valore possibile qualunque possibilità di danno cioè quello che si vuole evitare è che ci siano falsi allarmi o che ci sia qualche sabotatore che crei delle apparenti zone di contagio quando in realtà è soltanto un errore tecnologico in compenso i possibili benefici di un uso diffuso di questa app sono grandissimi immaginate una persona che viene allertata subito quando sta ancora bene del fatto che è stata esposta a un contagio quindi si fa controllare prima di quello che avrebbe fatto normalmente e quindi si trova già nelle mani dell'assistenza medica quando ha i primissimi sintomi quindi quando la malattia non è ancora forte quindi ci può dare una mano grandissima può servire soprattutto per proteggere le persone che abbiamo intorno a noi quindi collaborare partecipare all'utilizzo di questa app significa proteggere noi stessi le nostre famiglie e anche le persone che ci stanno intorno e quindi io da informatico oltre che da persona che inevitabilmente ha una famiglia e ci tiene anche alla propria salute credo che si possa dire tranquillamente che vale la pena di tentare con questa applicazione per vedere esattamente che aiuto ci potrà dare contro il coronavirus io vi ringrazio moltissimo per aver seguito questa cavalcata digitale a distanza nel mondo di questa app e sono a vostra disposizione per le vostre domande grazie grazie a tutti grazie a tutti